L'Apple ha convocato per oggi in California una conferenza stampa sui problemi dell'iPhone 4. Le polemiche sulle difficoltà di ricezione del telefonino continuano a montare. Negli Stati Uniti aleggia addirittura lo spettro di una class action contro la casa di Cupertino. Oggi Apple dirà ai giornalisti come intende risolvere il problema dell'antenna, il cui design non consente la ricezione quando il telefonino è impugnato con la mano sinistra. I consumatori accusano Apple di aver sottovalutato segnalazioni e lamentele chiedono una soluzione gratuita e definitiva.